La causa giusta è una raccolta di fondi contro la povertà, un esperimento che parte dalla Liguria, un rapporto tra pubblico e privato sociale, Acle e Caritas, due partner fondamentali, partner anche al tavolo nazionale di alleanza contro la povertà, per progetti finalizzati ad affrontare un tema, un problema che oggi sicuramente ha l'attenzione di tutti, perché è purtroppo in grande crescita. Che cosa farete con i fondi raccolti? Beh, intanto dipenderà dall'entità dei fondi, si partirà dalla sensibilizzazione delle imprese, alle sponsorizzazioni, alla raccolta tra i singoli cittadini nelle piazze, quindi un percorso che dura un anno, quasi un anno e dipenderà appunto anche dal risultato, però una delle nostre idee principali è quella di riuscire a fare delle sperimentazioni di co-housing, quindi intervenire in quelle situazioni di persone che non hanno una casa, che hanno un problema ovviamente rispetto alla loro autonomia. Ci sono alloggi arte che noi non riusciamo a ristrutturare perché non abbiamo i fondi sufficienti, ecco, magari quello potrebbe essere uno degli interventi che abbinato al Banco Alimentare, gli interventi che vengono già fatti da tante associazioni liguri sul tema della distribuzione alimentare, vanno incontro a due problemi fondamentali, alimentazione e casa. È un'iniziativa unica in Italia, la prima di questo tipo? Sì, è la prima in cui, almeno che sappia io, è la prima in cui un ente pubblico e due partner del privato sociale insieme fanno una raccolta fondi. L'idea è quella di aggregare alle risorse pubbliche e quindi all'impegno pubblico aggregare anche le risorse del privato, del privato sociale e perché no anche dei singoli cittadini, quindi un welfare di comunità che è fatto di tanti pezzi che si mettono insieme, uniti con un'alleanza per affrontare un problema, un tema importante.